Peppe Cassi è uno degli ex compagni di quella storica squadra, qual è il ricordo che conservi? Di una persona profondamente buona, un ragazzo buono, un ragazzone, come si diceva, un gigante buono, ma veramente buono, una persona educata, mai sopra le righe, mai alzare la voce, sempre a stemperare le situazioni di possibile tensione, veramente un caro ragazzo, un caro amico. Se ne va un uomo, un giovane uomo, se ne va pure un pezzo di storia di quella fantastica squadra. Sì, lui ha fatto parte per qualche anno anche della squadra, della Virsus, ha avuto un passato ad aggrigento, poi è rimasto qui come nello staff tecnico della Passalacqua, la sua vita era legata alla Palacanesto, allo sport, tutta una vita di sport, incarnando perfettamente i valori sportivi, nella mania veramente migliore possibile. Che rimanga un esempio, questo sono sicuro per chi l'ha conosciuto, per le nuove generazioni, un modello.